Oxfam Raus, questa la scritta che è comparsa questa notte sull'edificio che ospita la sede cittadina della Ollus. Ancora dunque un atto intimidatorio nella quartiere di Saione, proprio nello stesso tratto di strada nel quale solamente alcune settimane fa erano comparsi alcuni volantini razzisti. Rispondiamo continuando più convinti che mai che si debba costruire una società diversa, una società più accogliente dove le persone possano vivere meglio insieme e noi possiamo dare il nostro piccolo contributo come stiamo facendo da tantissimi anni aiutando in tanti paesi del mondo le popolazioni a uscire dalle crisi, dalla povertà e così anche in Italia a aiutare le persone italiane e non a vivere meglio in questo paese e costruendo percorsi anche di crescita, di educazione nelle scuole. Un episodio che ha suscitato la ferma condanna da parte dei residenti del quartiere è indubbiamente uno dei più multietnici della città, così come è accaduto per i volantini con frasi razziste. Penso come altri che si tratti di un singolo personaggio che evidentemente ha qualche problema e ci sono stati i volantini, ora questa scritta, però insomma gli episodi di razzismo da noi non si sono mai visti almeno gli 50 anni, da 30 avevo la saione, io non ho mai visto episodi di razzismo tutt'ora. Loro può dire che sì, noi, perché i neri non è tutti chi è cattivo, c'è cattivo c'è buono ma per dimostrare i buoni deve comunicare con loro. I cittadini tornano però a chiedere una maggior sicurezza nella zona, la stessa via Piave nel 2017 fu anche teatro di una maxirissa tra una cinquantina di persone di origine africana a colpi di bastoni e bottiglie. È esasperato, anche io ho un negozio, voto, non ci viene nessuno, che chi ci viene, specialmente qui, specialmente questa strada. Sul posto questa mattina è intervenuta la polizia di Stato che ha dato avvio alle indagini per cercare così di risalire al responsabile del gesto.